La Spezia L'inaugurazione del monumento all'eroe di Cortellazzo e di Buccari presenti il Duca di Spoleto e Galeazzo Ciano 30.000 persone partecipano alla cerimonia Il monumento, opera dello scultore Messina Raffigura Costanzo Ciano sulla tolda di una delle agili navi da combattimento che egli condusse alle imprese leggendarie di Tobruk dell'Albania, di Parenzo, Pola, Cortellazzo e Buccari La Spezia